Signori non fa niente, è come se avessi avviato una live alle 10, sciapuaggine, sciapuaggine a destra e a sinistra, solo che dobbiamo divulgare il verbo, YouTube è finito, l'epoca di YouTube è andata, non ci sta più niente a fare. Grazie Simone per il follow, si suppongo che vieni da YouTube e che il cazzo così tieni. Non c'è problema, sciapuaggine a destra e non puoi scemo con me, perché tu sei so bello e caro, ma se tu mi vieni a fare guerra, non vuoi la me, diteci conto. Allora, posso dire una cosa, posso dire una cosa, Ale, a te che doveva guardare il live, in generale, perché io dovevo dire che stai là, dì, non mi è merda, che io dovevo dire che stai là, tu mi stai facendo un'ultra di me, a te che t'hai cresciuto, t'hai cresciuto con amore, ok? T'hai cresciuto con me anni e anni, tu mi fai questo a me, ho il mio bucchino. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, un giorno ci dovremmo vedere, ricordati che io non sarò muscoloso, ok? E non avrò neanche tanta forza fisica, ma ricordati che dietro di me io c'ho una famiglia, e la mia famiglia è la mia armata, ti capito? E stai già fatto pure di discorso motivazionale. Tutti in chat, F per Alessio, F, F Alessio, F per Alessio, stiamo parlando, come potete vedere, Bardù, perdonami, è solo per il contenuto, Bardi ha il parrucchino, perché Bardi ha il parrucchino? Se vedete qua c'è i capelli a spazzola, ok? Perfetto. Se andiamo a retroso, quindi andiamo qua la settimana prima, vedremo che Bardi ha uno stile di capelli diverso, alla Toby McWire, quello che ha fatto Spider-Man, questi capelli non possono essere i capelli di prima, quindi è palese che Bardi abbia un parrucchino. Quindi io da oggi lancerò un nuovo hashtag, Bardi parrucchino. Mi volete vedere giocare in PvP con questa squadra? No, non ti voglio venire, ma perché me lo domandi? Se me lo domandi è normale che Trishpunghè ne ho fatto trattro cazzo. Ormai è di 10 anni fa, c'è un gioco vecchissimo, però vedendolo su YouTube e poi se mi andavate... Oddio. Beh, c'è... Grazie a tutti.